Su Radio Civita in Blu arriva appunto a capo un programma radiofonico di approfondimento culturale attraverso le voci di esperti, scrittori, autori, personaggi, cultura ma non solo, libri ma anche musica. Il lunedì alle 19 con Simona Gionta e Antonio Pernarella in collaborazione con l'associazione Fuori Quadro di Formia. Su Radio Civita in Blu, la radio on the road.